Ciao, in questo video parleremo di un altro sensore nascosto integrato nel mattoncino, il sensore di misurazione inerziale per gli amici, giroscopio accelerometro. Oh, resta fino in fondo perché vedremo come utilizzare una delle modalità meno conosciute per realizzare un gioco, la palla magica 8. Cominciamo? Il professor mattoncini! Il giroscopio a tre assi e l'accelerometro a tre assi sono sensori integrati all'interno del mattoncino programmabile Spike Prime. Nel caso del vecchio LEGO Mindstorms EV3, il sensore giroscopico era un sensore esterno da collegare a una delle porte numerate e aveva un solo asse uscente da questo pallino rosso. Rispetto a un giroscopio meccanico basato su un disco rotante come quello che abbiamo appena visto, o anche l'effetto giroscopico che ti tiene in equilibrio in bicicletta mentre le ruote stanno girando, perché l'asse di un disco rotante tende a rimanere orientato allo stessa maniera, il sensore giroscopico integrato nel mattoncino è un sistema MEMS, cioè un sistema microelettromeccanico, in cui non si muove assolutamente niente, ma vengono misurate le microdeformazioni di una micromassa sospesa con dei braccetti all'interno dell'involucro del sensore. Queste deformazioni avvengono quando il sensore viene mosso o ruotato. Pensate che gli ingranaggi realizzati per i sistemi microelettromeccanici sono più piccoli di un halo. Ma quindi che fa un giroscopio? Di base misura la velocità angolare, cioè la velocità di rotazione attorno a un asse o più assi. Indirettamente, cioè attraverso un processo di, lo dico per gli esperti, di integrazione, cioè di somma nel tempo di queste velocità, moltiplicando la velocità per il tempo, misura anche l'angolo di rotazione di questo oggetto senza avere riferimenti esterni. E qui il bello. Misura l'angolo rispetto al momento in cui è stato inizializzato. Quindi per funzionare bene il giroscopio deve essere calibrato. Questa calibrazione per l'hub spike avviene in automatico al momento dell'avvio. Quindi è sempre bene tenere il mattoncino assolutamente fermo quando si accende. Il giroscopio misurerà un rumore di fondo, cioè la velocità angolare nel momento in cui viene acceso, supponendo che quella sia il valore zero. Quindi se stai agitando o sciagattando il mattoncino mentre accendi il robot, questa calibrazione fallirà e le misure del giroscopio saranno tutte sbagliate. Quindi quando l'accendi lo devi lasciare immobile e in pace sul tavolo per qualche secondo. Questo problema era drammatico, specialmente per il giroscopio delle V3. Negli studenti comportati ai mondiali di WRO lo sanno bene. Il mattoncino spike ha un giroscopio a tre assi, quindi misura la velocità angolare, quindi l'angolo rispetto a tre assi. Di default, rispetto all'asse verticale, questo angolo si chiama imbardata. Rispetto all'asse uscente dal lato della porta USB, questo angolo si chiama rollio. Invece l'angolo rispetto a quest'asse, uscente di lato, si chiama più propriamente beccheggio, ma nel software si chiama inclinazione in italiano. In inglese il termine corretto si chiama pitch. Travito un blocco nell'estensione altri sensori è possibile dire al mattoncino che verrà utilizzato in questa posizione, cioè con la parte dello schermo rivolta in alto, ma per esempio così, in verticale. Facendo questo, gli assi del giroscopio vengono ruotati per corrispondere a come è montato il mattoncino nel nostro robot. L'accelerometro è sempre a tre assi, almeno se ci vogliamo fare qualcosa, perché misura l'intensità lungo i tre assi dell'accelerazione di gravità. Quindi facendo un po' di calcoli mi dice come è inclinato rispetto al suolo, rispetto alla terra, il mattoncino, che non è la stessa cosa che fa il giroscopio, perché il giroscopio ottiene questa informazione in maniera indiretta attraverso l'integrazione della velocità angolare. Invece l'accelerometro sa in ogni momento com'è inclinato il mattoncino. Infatti giroscopio e accelerometro vengono usati insieme, le loro letture vengono fuse insieme tramite degli algoritmi che si chiamano filtri. Si usa riferimento assoluto di inclinazione dell'accelerometro, però integrando insieme le letture veloci del giroscopio. L'accelerometro infatti quando è in movimento misura molto male l'inclinazione, perché appunto è soggetto a delle accelerazioni, mentre il giroscopio è insensibile a queste accelerazioni veloce, anzi le misura come velocità angolari molto elevate. Molti anni fa, credeteci o no, campavo di questo. Sono un esperto di filtraggio, cioè diffusione probabilistica di letture provenienti da vari sensori. E che ci facevi? Ho implementato dei software di localizzazione e navigazione di enormi robot mobili, dei muletti automatici che pesavano tonnellate, spostavano tonnellate di prodotti a metri al secondo. Anche questi sensori sono proprio scettivi, ricordate? Cosa significa proprio scettivo? Che misura uno stato interno, un po' come il nostro orecchio interno ci dà l'indicazione di come siamo inclinati rispetto al mondo anche ad occhi chiusi. Ma adesso vediamo come possiamo utilizzare questo sensore. Vediamo come leggere le letture di questi sensori integrati nel mattoncino programmabile, ovviamente dalla scheda sensori, ma anche dal monitor. Noi possiamo osservare nelle varie modalità i triangoli di imbardata, rotazione sull'asse verticale, inclinazione, pitch sarebbe beccheggio in italiano, e rotazione sarebbe il rollio. Ma possiamo anche vedere altre letture semplificate, ad esempio l'orientamento. Adesso lo schermo è orientato in alto, adesso in alto c'è la parte posteriore, ovvero dove c'è il cavo USB, adesso la parte anteriore dove c'è l'altoparlante, adesso il lato destro è rivolto in alto dove ci sono per capirci le porte B, D, F, adesso il lato sinistro è rivolto in alto dove ci sono le porte A, C, E, e adesso lo schermo è orientato verso il basso, cioè la parte posteriore è rivolta verso l'alto. Questa è un'indicazione molto grezza che però può essere già utilizzata in alcuni programmi. Qui vediamo la velocità angolare del giroscopio, adesso ruoterò il mattoncino lungo l'asse verticale. Vedete lungo l'asse Z abbiamo delle velocità angolari molto alte, se lo sto muovendo, sto cambiando direzione, e da fermo le velocità sono 0. Questa è una modalità che si usa per fare dei robot che si bilanciano, è una modalità piuttosto avanzata. Oppure possiamo misurare l'accelerazione. Vedete che se, ora sto tenendo l'hub, il mattoncino rivolto con lo schermo verso l'alto, e qui viene misurato il vettore della gravità, il vettore della gravità terrestre, 9000 rappresenta il massimo, quindi se io tengo il mattoncino perfettamente sul tavolo, e il mio tavolo è in piano, misurerò circa 1000. Però a seconda di come lo oriento, vedete che la componente di gravità sarà maggiore lungo altri assi. Adesso vediamo i blocchi che ci permettono di leggere questi stessi valori. Per esempio, questo blocco restituisce i valori logici per sapere se il mattoncino è inclinato in su, in giù, a sinistra, a destra, se è perfettamente fermo, se viene inclinato di lato. Oppure, questo blocco ci restituisce vero se il mattoncino è orientato in uno dei modi che abbiamo visto prima. Questo blocco invece ci permette di misurare dei gesti, cioè se il mattoncino viene scosso, toccato, in realtà più che toccato è proprio punzecchiato, dei colpi secchi col dito, oppure se è in caduta libera. Questa modalità va usata con attenzione perché, appunto, per poterla attivare è necessario far cadere il mattoncino. Quindi se avete intenzione di fare esperimenti in caduta libera, fatelo con qualche cuscino o tappeto sotto, qualcosa di morbido per non distruggere la vostra proprietà. Questo blocco è particolarmente interessante perché restituisce valori numerici di inclinazione e rotazione imbardata, per essere precisi, roll, pitch e yo, che si traducono con rollio, beccheggio e imbardata. In particolare l'imbardata, essendo relativa a come parte il robot, può essere resettata a zero per far cambiare direzione al robot. E questo è un blocco che utilizzeremo nella prossima lezione, in cui vedremo come far arrendare il robot perfettamente dritto con il giroscopio. Il funzionamento di questi blocchi è ampiamente documentato qui nella guida dell'app Spike. Adesso ve la mostro in italiano, ma è accessibile poi in tutte le lingue. Qui nei blocchi parole, io posso andare a vedere qua, nella descrizione blocchi parole, i blocchi che mi interessano. In particolare, blocchi dei sensori, andrò a cercare i blocchi inerenti, il sensore di inclinazione e orientamento. Qui nella documentazione, attenzione, c'è un errore che purtroppo è presente anche in lingua inglese, che quindi non è un problema di traduzione stavolta, ma è proprio un problema di redazione, che dice questo blocco restituisce, vero, quando l'hub è il sensore di forza. Questo non ha nessun senso di essere qua. Il sensore di forza non c'entra assolutamente nulla. Quindi, purtroppo, non potete fidarvi nemmeno della documentazione. E ora vediamo come utilizzare il blocco S-Cosso, S-Shaken, per creare un gioco, la palla magica. Magic Ball 8 fu inventato nel 1950 da un tale Carter. Era un gioco nella forma di una palla da biliardo, e la palla 8 nera per l'appunto. Qui interno c'è un poliedro, quindi una figura geometrica solida a più facce, e su ogni faccia c'è scritta una risposta. Agitando la palla, che conteneva un liquido, questo solido andava a fondo e poi riemergeva per galleggiamento e andava contro la finestra trasparente della pallina, facendo vedere una delle tante risposte. Quindi era utilizzato per prevedere la fortuna. Ora realizzeremo una versione semplificata di questo gioco, utilizzando solo il mattoncino programmabile. Come per la palla magica, lo utilizzeremo per ottenere delle risposte casuali. Sì? No? Forse. Vediamo come fare. Stavolta non ci servirà un blocco cappello che esegue una sequenza all'avvio del programma, perché noi vogliamo innescare una sequenza tutte le volte che il mattoncino viene scosso. Quindi stavolta, dalla tavolozza eventi, prenderemo il blocco cappello quando scosso. Un'alternativa, vi faccio vedere questo per motivi puramente speculative, è usare un blocco per sempre e un blocco attendi fino a quando e usare il sensore col blocco reporter è scosso e qui sotto mettere la stessa sequenza che metteremo adesso sotto il blocco cappello quando scosso. Ma mi pare che questo solo blocco sia molto più leggibile di tutto questo. Quindi quando possibile rendete il programma semplice. Quindi tutto questo adesso lo buttiamo via e cominciamo con l'implementazione del nostro programma. Prima di tutto, quando inizio a scuotere il mattoncino, così come nella palla 8, il messaggio vecchio deve sparire. Quindi dalla tavolozza luce io disattivo i pixel del display. L'evento è scosso viene generato quando io inizio a scuotere il mattoncino. Dopo che il mattoncino è stato scosso non voglio vedere subito una risposta. Creiamo un po' di suspense, per esempio aspettando un secondo. Dopodiché dobbiamo generare una risposta casuale. Per generare risposte a caso ci servirà un numero estratto a sorte. Quindi dalla scheda operatori andrò a prendere il blocco reporter numero a caso. Nel mio caso le risposte sono sì, no e forse. Quindi mi interessano numeri da 1 a 3, estremi e inclusi. I numeri casuali generati sono distribuiti uniformemente, che sarebbe a dire che c'è la stessa probabilità che esca l'1, che esca il 2, che esca il 3. Adesso devo salvare questo numero casuale in una variabile. Quindi creo una variabile, random, sta per random, ho anche random, e ci scriverò dentro il numero a caso generato. Questa variabile poi la confronterò in lettura per stabilire, in base al numero che è uscito, cosa visualizzare sul display e quale suono riprodurre. Adesso, per decidere cosa fare in base al valore della variabile random, vado qui nella scheda controllo e scelgo il blocco se allora. Per il seguilinea, vi ricordate, abbiamo usato il se allora altrimenti. Mettendone uno dentro l'altro e facendoci due domande, io ottenevo tre diverse risposte, tre diversi esiti. Questo era necessario perché noi controllavamo un valore in un intervallo, maggiore o minore. In questo caso, invece, i valori della variabile random sono semplicemente 1 o 2 o 3. Nessun altro valore è ammesso. Quindi io posso controllarli distintamente. In particolare, per controllare l'uguaglianza, io prendo l'opteratore è uguale a, e controllo che random sia uguale a 1. Quindi dovrò andare nella scheda variabili, prendere in lettura il blocco reporter della variabile random, e controllare l'uguaglianza con 1, duplico, nel caso in cui valga 2 o nel caso in cui valga 3. Per le tre risposte possibili, in ognuno di questi casi, andrò a mettere un diverso blocco attiva per accendere le luci sul display e dei blocchi riproduci suono in modo da riprodurre dei suoni. Per me 1 significa sì, risposta affermativa. Quindi vado qui, nella scheda luce, vado ad attivare i display che mi servono per visualizzare un segno affermativo. Ad esempio, potrei, ecco, un bel segno di spunta per dire sì. Per l'incertezza, invece di disegnare qualcosa, potrei semplicemente affidarmi alla scrittura del simbolo punto interrogativo. Nel caso della risposta negativa, vado ad attivare dei pixel per visualizzare a schermo una croce, che dà un'indicazione piuttosto precisa e anche internazionale del no, qualcosa andato storto. Qui dalla scheda suono riproduco un segnale acustico, imposto questi suoni per ottenere degli arpeggi, duplica, Quindi un arpeggio, sol, sol, do, questo lo allungo un po'. Per il no, cerco di riprodurre un effetto invece di una scala discendente, che va dal quindi andrò verso il basso, dall'idea di qualcosa di più negativo. E adesso, per l'incertezza, un arpeggio del mistero, che in realtà non è altro che un arpeggio su un accordo diminuito, si chiama in musica, che è prenderò un fa naturale, un sol diesis, e poi un sì. Sentirete, ora il sistema le durate, perché è un barabam, è un arpeggio che, diciamo, suscita mistero nell'orecchio di chi ascolta. Questo è il programma finito per intero, visualizzato, non c'entra tutto nello schermo. Ora, e l'abbiamo programmato, vediamo se funziona. Per esempio, vediamo un po', il canale del professor Mattoncini arriverà a 24.000 iscritti entro aprile 2024? Sì, gioia, ok, più difficile, questa. Lego mi assumerà come freelance? Vabbè. Ah, bella questa. Lego mi farà sistemare la traduzione in italiano dell'app Spike? No, mi dispiace, ultimo tentativo. Devi iscriverti al canale e cliccare mi piace? Sì, fallo! Clicca fuori! Ma non perderti il prossimo video perché utilizzeremo il giroscopio per qualcosa di più serio, per far andare il robot super dritto e girare con estrema precisione anche se le ruote slittano o il terreno è irregolare. Resta giovane, gioca a modino. Ciao! Grazie per la visione!